Ehi, 23 febbraio 2012, i cuccioli hanno poco più di un mese, a vedere come si direbbe. Ehi è Dolly che gioca con Cervin e al seguito c'è Poster. Ecco Dolly, H. Blumerle, loro sono le due Blumerle a cui tra i tricoloni. Questa è la mamma che gioca con il Thriller e Blumerle. Vedo le sgambita blu da qua. Ehi, vedo le sgambita blu da qua. Eccola, Lady Blumerle. Scusate.